19 ottobre è la data di rilascio in soft launch di Boom Beach Frontlines finalmente in un paese per iniziare Canada Ma sapete tutti come fare per scaricarlo Ragazzi c'è una bella notizia, infatti ho qui davanti a me il mio game Boom Beach Frontlines Posso finalmente giocare da oggi? Come si fa a scaricare il gioco se non siete entrati nella lista? Dovrete aspettare il 19 ottobre con i metodi che tutti ormai sappiamo come i tempi di Clash Royale Per chi invece è entrato in lista ha già il gioco e non dovrà riscaricarlo quando il gioco sarà lanciato in soft launch E quindi ragazzi cominciamo subito e parto immediatamente con la notizia che vi ho dato anche nel video di ieri In cui finalmente è già attivo il mio codice creatore Dragon Scritto proprio in questo modo qui Dragon, tutto piccolo maiuscolo è uguale, è fatto su porta e automaticamente raga mi supporterete anche su Frontlines Stesso codice anche nei giochi Supercell Raga comincia l'avventura, ho anche dei boli da aprire, sono già a livello 4 come headquarters, come municipio E quindi preparatevi perché ogni giorno uscirà un nuovo video su Boom Beach Frontlines Ogni giorno come sempre un nuovo video alle 14.15 qui sul canale Ora però raga andiamo a fare qualche partitina Dobbiamo sperimentare il game insieme, sapete che voglio provarlo e dargli una possibilità Vediamo come va insieme a voi Andiamo ragazzi a riscattare intanto i miei forzieri Io tra l'altro ho sbloccato tutte queste truppe qua e una delle truppe più forti all'inizio signori È questo, lo sniper L'arciere è una roba assurda, usatelo il più possibile perché è davvero tanta roba Devo ancora sbloccare Zooka E invece ho un po' di roba da sbloccare qua Voglio provare tipo quella che c'ha in mano sto pistolone che flancia a fiamme È una figata assurda, lo voglio assolutamente provare Andiamo intanto ad aprire i baulli free nel negozio Vediamo che cosa ci dà di interessante, magari sblocco una nuova carta Vediamo se sblocco una nuova truppa No, non sblocco una nuova truppa ovviamente Fortunato come... No aspetta Raga Nuova carta flammer, è quella che volevo Ma è fantastico, ho sbloccato anche il mortaio un po' di tempo fa Ci sono un po' di cose molto interessanti di questo game Che ripeto, esce in canda all'inizio Poi anche in tutti gli altri paesi Ma ripeto raga, sapete i modi per scaricarlo Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare C'è anche un big box, c'ho il pass Space Ape mi ha dato il pass e ho sbloccato il cluster Questa truppa qua, che è un po' il tema di questa season Che scaglie tra 45 giorni Abbiamo due box, uno nel pass gratuito E uno invece in quello premium Mi raccomando se shoppate il pass Per adesso su iOS non si può fare Ma penso che dal 19 Sì, dal 19 potrete shoppare anche su Apple Mentre Android Easy Se shoppate il pass usate, mi raccomando, il mio codice Se volete sopportarmi prima di comprare qualsiasi cosa Codice Dragon Che trovate anche qua sotto tra l'altro Raga, questo box secondo me mi ispira Vediamo un po' Ok, lanciafiamme come difesa E lo sniper Ci può stare, ci può stare C'è una cosa che ancora non so cosa sia Cosa è qua? New unit, battle deck Ah, ma io posso cambiare il mio deck Ma sta cosa è bellissima E andiamo in game Ragazzi sedetevi comodi Facciamo due partite E proviamo un po' Vediamo come va questo game Sono troppo curioso di provare sta truppa qui Mi piace tantissimo anche la meccanica Che qui vengono date già delle difese Di power up E i veicoli che potremo usare E trasformarci insomma in quei veicoli E partiamo con la flammer Tra l'altro Livello 4 penso sia una realtà Niente male Perché vedo quello sfondo viola Ok Ok Raga non ho mai usato sta truppa E comunque ci sono ancora un po' di botte Perché siamo ancora agli inizi Inizi E ancora ragazzi la fase in cui Il gioco non è stato lanciato Quindi se trovate dei bot Per quelli che sono entrati in lista È normale Io dal 19 mi aspetto di non vedere più botte Allora Raga io devo vedere come spara sta cosa Sono troppo curioso Ma che figa No prende tutti? No bellissimo Ma che figata è questa cosa? Comunque raga gli effetti in sto game sono veramente stupendi Parleremo di strategie Già dal prossimo video Aiuto Ah io mi ha fatto malissimo questa Parleremo di strategie nel prossimo video Secondo me raga in questo game servono assolutamente in squadra Almeno 9 Quello va già down Esatto Posso anche tipo doppio tappare per dire andate no Oppure se tappate Anzi questi segreti ve li farò sapere poi in un video apposta Tipo premendo sulle altre truppe Sugli alleati Possono uscire delle emote Raga guardate che disastro sto facendo qua dietro Ma che disastro sto facendo con Zero HP praticamente No fantastico No mi ha fatto fuori Io prenderei No 900 No dai voglio usare lei ancora Bella la meccanica che posso trasformarmi in dei veicoli Ecco cosa stavo dicendo Ci sono un po' di cose molto interessanti Raga ecco perché secondo me questo game merita di essere un attimo giocato E di essere capito Ma sarà ancora più figo Fidatevi Sento questo Quando potremo effettivamente giocare Aiuto Scusatemi Sbloccare Sbloccare tante altre truppe Guardate quanto è figo il curatore Secondo me dicevo Una squadra da 9 Ha bisogno sempre di almeno 3 curatori Secondo me Uscirà al meta Con i guaritori Almeno 3 in battaglia Guardate cosa ho appena costruito Ho appena costruito Un coso che Difende la nostra base E dopo qualche secondo esce Vedete Che fa praticamente fuoco Bellissimo Ci sono troppe meccaniche raga da scoprire Che secondo me fanno la differenza Abbiamo vinto più 16 medaglie Abbiamo anche un baule Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa Nel quarto municipio Cos'è che devo sbloccare ancora io qua Questo raga Lo scorcer che è OP Lo scorcer OP Raga apriamo altri box Altri box Abbiamo l'upgrade Abbiamo un altro Box di qua Nel free Nel free pass E poi quello con Il pass Scioppato Uh ecco Abbiamo ad esempio La difesa Il flamethrower Che facciamo Subito Lo alziamo un attimo Perché questo raga In difesa è tanta roba Benissimo Andiamo raga Ancora in game Voglio farmi un'altra Mi piace troppo sta truppa Raga ma è OP Mi raccomando raga Chi mette il codice dragon Mi tagghi su instagram Qui sopra c'è il mio Insta Instamerigo Mi trovate così Prendiamo lei Qui c'è intanto l'anteprima L'anteprima della mappa E mette anche sopra Le truppe alleate In grigio nelle icone lì Let's go Stavolta ci trasformiamo Poi in quel carro armato potente Dopo lo faccio Guardate cosa succede Se faccio il doppio tap Sulle persone Mentre se tappo Su qualsiasi area A terra Oh oh c'è un'altra come me Mi fa Questo punto di domanda Come avviso Oh cavolo No comunque raga È fortissimo sto coso No Facciamo fuori Prima il curatore Ma Facciamo fuori il curatore Perché lui Oh cavolo Vieni qua Oh cavolo Hold on Quello l'ho già visto Ecco ma ticamba Ad esempio Non è una truppa Bot È reale È real Oh 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 Questo fa male Questo fa male però No ma quanto è forte lei raga Ma quanto è forte Devo allontanarmi Raga qui è come su lol Bisogna allontanarsi Quando bisogna allontanarsi Altrimenti Finisce male Guarda con quanti HP Fa fuori quest'altro Benissimo Benissimo signori Però ci stanno prendendo Ok Siamo abbastanza Zed ad esempio Aspetta bishop Oh oh Aiuto 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 Ok vediamo se ce la faccio Da dietro Sì Oh oh No mi fa Mi fa Eh no mi fa Si è trasformato E mo ci trasformiamo anche noi Mi voglio trasformare in questo No è ancora chiuso Ma quanto costa sto cosa ragazzi Costa un botto No dai Niente Anzi prendiamo un'abilità Dai mi prendo un'abilità Tipo questo I missili L'attacco aereo Anche sta cosa è molto carina Il fatto degli attacchi raga Delle abilità Che sono praticamente extra Che si possono sbloccare Ad inizio game Dai che faccio fuori questa Se faccio fuori anche il caro armato Sono con No È troppo difficile Il bello è che stiamo giocando Tutti un po' con le truppe ancora base Perché dal municipio 1 Al municipio 4 Ragazzi Intanto qui sta spammando Uh queste non sono botte Eh le truppe sono ancora un po' base E che verranno tutti quanti Vedrete in battaglia Questo raga è OP I movimenti mi piacciono un sacco Da quando li hanno migliorati Meno male Meno male Facciamo fuori quel coso Che quel mortai Ma che belli sono Noi gli effetti del mortaio Qualcuno ha preso il caro armato Da destra Lo vedete di sotto A destra Tanta roba Tanta roba Intanto attacchiamo la base Se tappo su questa torre Posso dire ai nemici Agli aliati scusate Eh di andare ad attaccare lì Ok Comunque Comunque Sti carri Sono troppo OP ragazzi Sono troppo OP Possiamo lasciar loro intanto Attaccare di là Noi possiamo procedere Mai stare tutti da una parte Raga secondo me Mai stare tutti da una parte E incollarci lì Perché bisogna andare avanti Questa va down Sarebbe figo anche tipo un log Una cronologia delle kill tipo Secondo me sarebbe carino Andiamo di qua Facciamo fuori sto tipo Lo facciamo fuori easy con i cannoni No Non l'ho fatto fuori veramente Ok Sniper pericoloso Facciamo fuori Lo sniper Benissimo Io mi metto qua in difesa Forse questa è vinta Forse questa raga è vinta Oh oh Via I movimenti anche delle auto È molto bello eh Molto 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 carino Ho 600 cosi Intanto ricordatevi sempre di Buildare le costruzioni Nella base Attenzione Perché fanno tantissimo la differenza E abbiamo signore vinto Oggi raga abbiamo sbloccato una truppa OP Questo devo dirlo assolutamente Più 16 medaglie Vediamo se c'è qualcosa da aprire Danno un sacco di stelle e di medaglie raga vedo In sto game Mi piace Abbiamo degli upgrade Facciamo il medico Con cui giocherò nel prossimo video Probabilmente perché È una delle mie truppe preferite Il medico se è usato bene È veramente tanta roba È di grandissimo ma di grandissimo aiuto Penso che possa essere una di quelle truppe Che facciano più la differenza in questo game Mettiamoci anche il level up sul mortaio E ragazzi tanta roba I grunt li facciamo Li facciamo Abbiamo tanto un bel po' di oro E l'ultima truppa che andiamo a migliorare È anche lui Questa qua Ha un quarto del quarto municipio Come dice New unit ma l'ho già visto Benissimo Guardate intanto raga Quanta roba c'è ancora Fino al municipio livello 8 Ok E tipo Guardate già che truppe ci sono dopo Tipo questo sembra fighissimo Questo Questo è interessante Anche questo No raga è bellissimo C'è già al 5-6 up Immaginate al 7 E all'8 All'8 c'è una truppa Annunciata da poco Che è questo Che è lo stesso di Boom Beach Raga spettacolare Ragazzi grazie per la visione Andrò avanti Vi aspetto anche oggi In live Accendete la notifica Lì mi chiamo Drago Sull'altra piattaforma Senza la N finale Ragazzi ci vediamo In stream E domani con un nuovo video Ragazzi quando noi ci divertiamo Vi aspetto In game Grazie per il mi piace Ciao